Milano dice, ma Don Antonio evidentemente deve avere una predisposizione particolare per Mario Conte perché dice, quello è un cantante giustamente come avete detto, Don Antonio è la pernilato ideale quel cantante emoziona si, gli dà un'emozione e ha ascoltato Massimo Ranieri quando lui canta ma mi ha colpito una volta quando io ho conosciuto Don Antonio e non so, mia moglie l'ho presentato e lui disse, signore, vostro marito ha una cosa che è un amore con la gente con tutta la gente è un dono, è un dono e quindi è questione di onoratissimo di aver fatto parte della famiglia soprattutto quella foto dove siamo tutta la famiglia polizia ho fatto il mio dovere, il mio dovere è stato un piacere la cosa bellissima che si è fatto un boom proprio ma è vero noi ce lo spettavamo a Roma dopo lì stavamo dicendo il bot che si è fatto per questa sorrisia al film di Posto Lecevo è stato molto, 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 molto più il nostro territorio è successo no, perché in effetti la gente è dappertutto comunque quando la domanda ma non si vede la sorriscia è stata una cosa una visibilità meravigliosa è importante siamo rimasti tutti con me tutti con me mi careste vostro quindi quando la shot up viene da me se è massimo perché lui lo sa fare proprio perfetto a rendere la sua voce cambibili dal giù come nel patrullio e fa madre di bacione come fossi il primo volere quando lo sentite quando lo ascoltate da me se è massimo nasce tutti la versi la verità come se è spa una poesia Grazie a tutti